Io capisco che il momento non sia dei migliori, però non ti può incazzare, non ti può incazzare se non fai niente per rimediare la situazione, non puoi far niente, cioè stai zitto, stai zitto, fai prima, per me ci fai meglio, ci fai una più bella figura, perché è inutile che piangi miseria e poi continui ad andare esattamente come se non fosse successo nulla, allora non piangi miseria, allora è come se non fosse successo nulla, cioè a un problema devi reagire con un'azione almeno almeno uguale opposta, almeno, spero anche di più però, cioè se vuoi stare in piedi drizzi le gambe e stai in piedi, se vuoi saltare prendi lo slancio e salti, ora magari non vuoi dire un cazzo per qualcuno sta roba, però io non, allora riparto da capo, nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con un imprenditore che mi ha sostanzialmente iniziato a declamare tutta la migliore merda di questo mondo, dicendo che non funziona nulla, che lo stato è pirata, che il mondo va male, ci mancava solo il codice, così, eh ho capito, ho capito, non te la passi bene, è chiaro, è evidente, come te tanti altri, tanti altri, però, amore bello, o ti dà una mossa, o rifiuti di andare avanti, non è un problema dire ho fallito, che poi la cultura del fallimento sembra che sia, cioè che è lontana anni luce dalla nostra cultura, boh, ci faremo anche un contenuto su questo, perché è assurdo pensare che nessuno possa mai fallire nella nostra cultura italiana, impregnata di tradizionalismo e di tante altre cose, per cui se uno fallisce è un bastardo finito per tutta la vita, ma basta, basta questa storia, allora le soluzioni sono due, o trovi un modo per andare avanti, o chiudi e trovi un'altra vita, cioè nessuno ti dice che far l'imprenditore in questo modo a perdere sia una cosa buona, se c'hai 20.000 euro e li butti tutti via, nessuno ti dice che sei un genio, nessuno, nessuno, conviene tenersi li 20.000 euro, se la cascata è lì davanti, è qui, e dici ci vado contro, ci vado dentro, ma sei un coglione, non sei uno che si è giocato fino alla fine delle cose, cioè chi si gioca fino alla fine delle cose, è chi vede la cascata e dice boh, provo in questi minuti a inventarmi un paracadute, qualcosa, che salto dalla cascata e intanto lo apro, cioè non te che continui ad andare a diritto come un treno pensando che un miracolo avvenga, cioè per favore fai qualcosa, mettiti nella testa che fare imprenditoria in questo momento è cambiare qualcosa rispetto a prima, ma molto easy, non è che sto a dire robe fuffologiche fuori dal mondo, mettiti in testa che è cambiato qualcosa, come è cambiato qualcosa da una parte, dalla parte di vista dei clienti, dei fornitori, cambia qualcosa anche te, stacci dentro, se non ci stai dentro, buono, arrivederci, è finita, e non è un problema, e non è un problema, e chi ti giudica lo mandi a quel paese, perché, perché sì, perché sì, perché non c'è scritto da nessuna parte in questo mondo che se fai l'imprenditore dovrai farlo per sempre, o che se non fai l'imprenditore e fallisci sei un pezzente, o che se fai l'imprenditore devi dimostrare sempre di aver seguito nella linea migliore, di essere sempre stato il più bomber, cioè ma quando mai, ma quando mai esiste sta roba? Allora, per me, rimettiti sulle rotaie, ricapisci, cerca di capire dove vanno queste rotaie, se sei in grado di seguire, di percorrerle, se invece te le stanno portando via, te le stanno smontando, perché tu piangi miseria, ma qualcun altro in questo periodo è cresciuto tanto, allora che vogliamo fare? L'Italia funziona solo per te? Lo Stato è un pirata soltanto per te? E boh, non lo so, forse sei tu il pirata che non ci sta più in questo mare, cioè capisci, cioè rivolto le cose, forse sei te che non sai più navigare qua dentro, ma ci sta e non è un problema, cambia, cambia, cambia approccio, cambia mentalità, cambia lavoro, boh, ci sta. Per me questo è il mio consiglio, effettivamente è un po' uno sfogo diretto verso una persona precisa, che però, boh, genericamente vale un po' per tutti, o ci stai o non ci stai, non c'è uno, cioè, sì, ci sono via di mezzo, puoi vivacchiare, ma per quanto duri? Anche perché non sai nemmeno quanto durerà sta situazione? Tornerà mai tutto come prima? Secondo me no, ma meno male, dico, ma meno male. Milioni e milioni di uffici pieni di gente che ogni giorno doveva fare centinaia di migliaia di chilometri per andare al lavoro, per tornare, code, cose, ma chi te lo fa fare? Ma, cioè, la vita la stai a vivere per lavorare rinchiuso in uno sgabuzzino lontano 100 chilometri da casa tua, o la stai vivendo per vivere con le persone con cui stai bene? Cioè, fammi capire un attimo qual è il concetto che sta alla base della tua vita, perché io lavoro e sono felice di quello che faccio, ma so bene che il mio obiettivo non è lavorare per lavorare. Sì, mi piace, ok, ma è l'affetto che mi muove, è la vita, quella che, come dire, che sto progettando che mi muove, non il ricordo di qualcosa che c'era prima. Accidente, arrivederci, dei ricordi si muore, no? Comunque. Dai, basta. Fai la tua scelta. Io non... Cioè, te l'ho detto, mi pare, in maniera piuttosto chiara. Piuttosto chiara. Alla prossima.